Buongiorno a tutti ben ritrovati all'appuntamento con la nostra rassegna stampa come ogni giorno insieme a voi per leggere i giornali e dare un'occhiata alle notizie fresche di giornata Cominciamo con le prime nazionali come sempre, diamo uno sguardo alle prime di quest'oggi Cominciamo con il Corriere della Sera che parla di quelle che potrebbero essere le regole per i non vaccinati a partire dal prossimo Consiglio dei Ministri, probabilmente già oggi o comunque in settimana verrà affrontato il tema che riguarda le restrizioni dedicate proprio a chi ancora non ha preso la somministrazione del vaccino Le regole sono in valutazione da parte del Governo con il supporto del CTS ma anche degli esperti dei Ministeri in base alle richieste delle regioni e molte regioni infatti hanno chiesto che in caso di zona arancione o di ulteriori restrizioni non siano i vaccinati a pagare il dazio di queste nuove misure di contenimento del contagio e quindi si sta facendo una valutazione su quelle che possono essere le misure decise dal Governo Novax fuori da stadi e hotel, l'apertura del Corriere di quest'oggi oggi il via al decreto sul Super Green Pass di vieti dalla prossima settimana obbligo di vaccino per alcune categorie, su questo si sta riflettendo in primisi sanitari ma anche chi è a contatto con le persone come le forze dell'ordine o i professori e poi anche la valutazione sulla durata del Green Pass che dovrebbe, questo ormai appare scontato durare meno di 12 mesi e fermarsi a 9 ma le restrizioni più pesanti sarebbero quelle dedicate a chi non ha ricevuto il vaccino che vedrebbero limitata ulteriormente la loro vita sociale senza poter appunto partecipare a eventi pubblici, a decarsi in ristoranti, bar e attività sportive e quindi questa è un po' l'idea del Governo e poi anche le retroscena politici rispetto a queste trattative Draghi ai ragazzi, anch'io cerco la mia strada si legge nell'articolo di Marco Galluzzo poi l'ironia di Grillo, Conte sa dare penultimatum, puntura nei 5 stelle quindi ancora conflitti interni poi l'immunologo, fate qui le vacanze l'Italia è il paese che in Europa sta meglio di tutti ed è bene passare qui le vacanze dice l'immunologo francese Le Foch, rifugio e mercatini aperti se seguono le regole e conviene, dice, viaggiare in auto nella foto di centropagina attivisti trans pubblicano su Twitter l'indirizzo della scrittrice Rowling l'autrice di Harry Potter nuove minacce dice lei mi cita pezzo la casa così recita il pezzo di De Carolis poi vediamo anche nella spalla tasse, le mosse di Franco meno aliquote e più esenzioni da 5 a 4 scaglioni IRPEF poi la decisione per la prima volta in Italia in merito al suicidio assistito chi non capisce venga a vedermi dice Mario un ex autotrasportatore di Ancona che ha scelto di morire è infatti paralizzato dal collo in giù ed è appunto la prima volta in Italia la madre dice sono orgogliosa di lui vediamo anche l'editoriale di Antonio Polito lo scatto che serve ai leader si parla di Salvini e Conte poi in taglio più alto il data room di Milena Gabanelli Andrea Ducci il tesoro dei Savoia in Banca Italia è degli eredi o dello Stato questo è l'approfondimento e poi l'iniziativa le lettere di Pasolini il mondo di un grande del Novecento il caffè invece di Gramellini in taglio più basso lo vediamo La vita è bella questo è il titolo di quest'oggi dedicato proprio a zero calcare una nuova serie a firma dell'artista sta avendo un grande successo spostiamoci adesso sulle pagine della stampa con l'apertura di quest'oggi dedicata al vaccino obbligatorio che diventerà tale per insegnanti e polizia oggi la stretta del governo l'organizzazione mondiale della sanità dice ci saranno due milioni di morti in Europa poi le nuove regole per lo smart working ma in foto di centropagina cento giorni di taleban nove milioni di persone piegate dalla caressia si legge con la situazione in Afghanistan dopo la ripresa del potere da parte dei talebani andiamo anche sulla Repubblica così difenderemo le donne fermo immediato e più tutele si legge l'apertura di quest'oggi è dedicata la mozione in Parlamento per le norme sul femminicidio cinque ministri sono al lavoro per chiudere entro una settimana proprio nella settimana in cui ricorre domani la giornata dedicata all'eliminazione della violenza contro le donne nel pacchetto provvedimenti più efficaci contro gli autori delle violenze scorta nei casi gravi e aiuti economici suicidio assistito Mario Felice mi dispiace per mia madre appunto si torna sul primo caso di suicidio assistito in Italia poi invece in centropagina spionaggio elettronico francese per scovare i dissidenti in Egitto e poi la lotta alla pandemia con le nuove norme che stanno valutando all'interno del Consiglio dei Ministri obbligo di Green Pass per alberghi e pendolari poi invece in taglie più basso il potere la folla perché Freud è ancora attuale la firma di Massimo Recalcati poi che cos'è l'amore sotto il cielo di Oslo si parla di spettacoli con Natalia Aspesi poi invece nella spalla vediamo le notizie economiche team alla resa dei conti Vivendi pronta all'affronto su Gubitosi poi ancora quella rete dati che Palazzo Chigi non vuole vedere inflazione e virus sulla Fed lo spettro di Carter questa è l'apertura di quest'oggi della Repubblica ancora diamo un'occhiata alle prime di quest'oggi andiamo a vedere il Sole 24 Ore con le notizie economiche spesa e tasse faro dell'Unione Europea sull'Italia questa è l'apertura di quest'oggi oggi le pagelle di Bruxelles bene la manovra ma serve un freno al debito pubblico il Presidente Mattarella occorre un supplemento di responsabilità si parla di conti pubblici poi pronto il decreto sugli aumenti dei materiali per l'edilizia acciaio addirittura rincari fino al 76% il Ministro Franco a fine anno pilo oltre le stime più accentuata la riduzione del debito IRA per aiuti di Stato per la restituzione in vista la proroga al 31 di gennaio batteri o virus ora un test distingue le infezioni è un test elaborato in laboratorio uno strumento diagnostico sviluppato in Israele che servirà a dare maggiori risposte efficaci in caso di infezione poi petrolio sfida dagli Stati Uniti all'OPEC aperte le riserve però il prezzo sale poi sul caso TIM vi vendi non venderemo e KKR esclude rialzi dell'offerta questa è la prima del sole che nel panorama cita anche la situazione delle misure di contenimento super green pass stretta da lunedì nei locali pubblici per i non vaccinati queste le anticipazioni sulle decisioni che dovrebbero essere prese dal governo andiamo a vedere anche il fatto quotidiano con l'apertura in taglio alto riguardante Speranza e Draghi confinare Inovax anche in zona bianca in regioni sette regioni attivato il 10% dei posti di terapia intensiva previsti e come sappiamo nella nostra regione questo limite è già stato sforato ormai da diverso tempo poi lo stil novo del presidente della nuova Alitalia misterita insulta tutti fuori metà lavoratori vi spiumo tutti sarebbe il virgolettato che cita il fatto quotidiano così parlò Altavilla al comitato direttivo del primo ottobre per cacciare i dipendenti più sindacalizzati volgarità a go go la replica dell'azienda dovete supportarci questa e alcuni virgolettati anche più espliciti li potete leggere da voi sulla prima del fatto comunque il nuovo amministratore delegato si sarebbe espresso con abbondante ricorso al turpiloquio così dice il fatto quotidiano andiamo a vedere il giornale in apertura passa la linea dura ultimatum ai Novax oggi il consiglio dei ministri super pass anche per hotel treni e ristoranti obbligo di siero per professori e forze dell'ordine no a misure per gli under 12 4 dubbi tecnici sul certificato scrive Francesca Angeli poi Draghi accontenta i partiti Banca Italia critica la manovra Conte fa dietro front e Grillo lo punge caso Amara la mossa della procura colpo finale giustizialisti mandate a processo Pier Camillo Davigo e poi primo sì al suicidio assistito si riaccende la guerra etica nel caso di Mario tetraplegico da 10 anni il dibattito vede anche una voce favorevole sulla prima del giornale scelta di libertà lo stato debole è il problema invece per chi invece si pone in maniera contraria rispetto a questa scelta uccidere non può essere una conquista si legge andiamo a vedere anche il manifesto fine pena si legge nell'apertura di quest'oggi con lo scatto che riguarda proprio la scelta di Mario il tetraplegico delle Marche e appunto l'autorizzazione al suicidio assistito il primo caso in Italia l'associazione Coscioni intervenga il governo in Parlamento la legge è al palo in taglio alto taglio IRPEF IRAP Banca Italia critica la mossa superpass oggi il decreto gli ultimi nodi sono quelli relativi alle zone e alla durata la verità sicuramente si parlerà delle regole allo studio e infatti l'apertura è molto critica come sempre rispetto a quelle che sono le scelte del governo il dannoso super green pass viene definito dalla verità il ridicolo ballo del tampone da presidio fondamentale a strumento peruntori al ristorante o al cinema però per entrare in studi tv case di riposo ospedali e palazzo chigi è indispensabile poi appunto le contraddizioni del governo non gli basta mai al governo pensano all'assurdo obbligo delle mascherine all'aperto poi in apertura nella foto di centropagina uomini e donne del Quirinale gentiloni al servizio di Toto a dare una mano ad Alfonso Toto interessato a ottenere norme favorevoli al proprio gruppo concessionario della strada dei parchi non c'era solo lo staff di Gentiloni ma anche una consigliera giuridica Valentina Canalini vediamo la foto in centropagina poi l'Italia si parla anche del suicidio assistito in Italia ora ci si può uccidere il comitato etico delle Marche dice sia un suicidio assistito e apre una voragine in un paese dove è vietato tagliarsi un orecchio ma non più togliersi la vita né rinunciare a la libertà e questo rischia di diventare legge questa è la prima della verità andiamo a vedere anche la prima di Libero poi ci spostiamo sul gazzettino se la prende Libero con Davigo da inquisitore a inquisito caro Davigo ora tocca a te questa è l'apertura di Libero di quest'oggi con il caso Amara che a questo punto tocca anche Pier Camillo e Davigo poi nella foto di centropagina ancora risparmi sulla sanità nonostante l'emergenza covid vediamo anche la prima del gazzettino in centropagina prima stretta a nord est Padova mascherino obbligatorie in centro la decisione dell'ordinanza del sindaco che è allarmato dopo le ultime manifestazioni con migliaia di persone senza rispettare distanziamento e mascherine ha preso questa decisione che sarà attuale e quindi sarà obbligatoria fino alla fine dell'anno a Treviso stop ai cortei il Friuli invece passa in giallo da lunedì la maggioranza dei veneti a favore 6 su 10 a Venezia dicono sì al numero chiuso i tornelli in centro storico questa l'idea per regolare gli afflussi di persone in centro storico a Venezia poi la camorra a Bibione sono solo suggestioni questo il virgolettato il tribunale del riesame smonta l'indagine che aveva portato a nove arresti poi le manager Trevigiano Ricci su Pantani ci sono troppe omertà giusta la nuova inchiesta si legge la terza volta che viene riaperta l'inchiesta per il caso della morte del pirata poi invece nella spalla Conegliano sindaco Novax in ospedale sotto ossigeno a Belluno miserabile avrai ciò che meriti minacce no pass al cronista e poi ancora Meloni sindaci Padova e Verona ecco le mie idee il colloquio con la leader di Fratelli d'Italia la necessità comunque in vista anche di nuove eventuali manifestazioni ieri ci sono state manifestazioni a Trieste quella di isolare i violenti in taglio alto si parla anche delle friuli per il ponte sul Natisone la soluzione costa 11 milioni in più e poi ancora il calcio la Juve si inchina il Chelsea Atalanta solo un pari con lo Young Boys queste le prime di quest'oggi del nazionale abbiamo visto adesso il gazzettino ci spostiamo sulle testate invece locali andiamo a vedere la prima del piccolo di Trieste la quarta ondata vede il 60% dei morti proprio in provincia di Trieste diamo un'occhiata solo ieri 5 vittime in provincia in 2000 nuovo corteo ieri pomeriggio appunto con alcuni sanitari Novax in testa sanitari sospesi che hanno rivendicato la propria decisione di scegliere di non vaccinarsi poi le prenotazioni stanno arrivando ma la montagna teme le restrizioni e poi ancora il lockdown manda all'aria la ripertenza di Pramollo poi diamo un'occhiata anche alla spalla con in taglio più alto la discussione in consiglio regionale dedicata alla legge sulla famiglia e poi ancora non solo piazza unità la mappa cittadina dei 75 alberi di Natale si parla di Trieste spara in costiera lpm chiede 5 anni per De Luca e poi uno chef conferma le due stelle Michelin stimolo a migliorare si legge questa la prima del piccolo di Trieste spostiamoci sul messaggero questa volta la pagina di Pordenone con l'apertura dedicata ancora alla stretta del governo e ai vaccini con le decisioni che sono al vaglio del consiglio dei ministri attività ricreative vietate per chi non è immunizzato sta per arrivare per la nostra regione la zona gialla che prevede la mascherina anche all'aperto intanto la produzione industriale corre e torna ai livelli pre-pandemia andiamo a vedere anche la situazione del contagio che per quel che riguarda la nostra regione rimane comunque alto con ancora ricoveri e ancora riconversioni di reparti sono stati aumentati ulteriori posti letto nell'azienda sanitaria giuliana il contagio entra in seconda medica all'ospedale e poi si parla anche ovviamente di le decisioni che stanno per essere prese con al vaglio appunto diverse misure andiamo a sentire allora il bollettino che riguarda ieri sulla situazione del contagio in regione e su quelle che potrebbero essere le misure decise dal governo a breve verso il super green pass mentre i contagi si mantengono alti in regione e i ricoveri salgono il consiglio dei ministri affronterà mercoledì la nuova stretta per contenere la quarta ondata del covid per evitare di chiudere di nuovo il paese l'orientamento è premiare i vaccinati introducendo un doppio green pass uno super che consenta a chi si è immunizzato di continuare a usufruire di ogni attività sociale e ricreativa e un altro per chi ha scelto di non vaccinarsi che permetta solo l'accesso ai luoghi di lavoro e ai servizi essenziali da chiarire se il doppio green pass sarà valevole anche in zona bianca c'è poi la richiesta delle regioni di ripristinare il controllo alle frontiere ma c'è il dubbio che possa scattare solo dopo un intervento dell'Unione Europea una scelta invece è già stata fatta dal governo ed è la riduzione da 6 a 5 mesi dell'intervallo tra la conclusione del ciclo vaccinale e la terza dose potrà essere fatta dopo 150 giorni scende da 12 a 9 la durata del green pass altra misura che non dovrebbe trovare ostacoli è l'obbligo della terza dose per i sanitari e il personale dell'RSA dibattito aperto invece sulla validità della durata dei tamponi 28.151 quelli effettuati nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia dai quali sono emersi 414 casi di positività con un rapporto contagiati tamponi all'1,47% nelle ultime 24 ore ci sono state anche 5 vittime mentre continuano a salire i ricoveri in ospedale 25 i pazienti in terapia intensiva uno in meno 229 negli altri reparti 6 in più 5.814 in totale le persone in isolamento e continuano a registrarsi nuovi casi anche tra gli operatori del sistema sanitario regionale 14 nell'azienda sanitaria Giuliano Isontina 1 in quella occidentale 1 nella Friuli centrale 18 invece i nuovi casi di Covid-19 tra gli ospiti delle residenze per anziani 9 gli operatori contagiati all'interno delle stesse strutture a Trieste Tolmezzo San Daniele del Friuli e San Dorligo della Valle Spostiamoci sulle pagine di Udine sempre sul messaggero in apertura ancora le decisioni per contenere il contagio soprattutto nelle zone più colpite quelle che potrebbero entrare in zona arancio a breve poi vediamo anche la cronaca di Udine sul colle del castello spuntano due scheletri durante gli scavi poi la variante dedicata all'ex Bertoli con la decisione della giunta comunale di approvare un nuovo documento che prevede un parco di 60.000 metri quadri e poi auto travolta da un treno a San Giorgio di Nogaro manca il passaggio a livello e poi ancora si parla ovviamente della politica divisa sul suicidio assistito e la definizione di famiglia a Udine onsel decisione discriminatoria si parla della decisione del Consiglio comunale di modificare lo statuto parlando di famiglia in caso di matrimonio questa è stata la decisione degli ultimi giorni molto contestata dalle opposizioni andiamo a vedere le pagine del Gazzettino con la pagina dedicata al Friuli vediamo qual è l'apertura di quest'oggi si parla ovviamente del picco secondo una proiezione dei contagi si potrebbe verificare tra due settimane per quel che riguarda i ricoveri a Udine giro di vite sui locali controlli rafforzati per verificare che gli esercenti applichino la norma sul Green Pass e c'è ovviamente preoccupazione per quelle che potrebbero essere a breve le decisioni che entreranno in vigore a breve poi in taglio più alto sempre per la pagina delle Friuli fissati i paletti per il recupero dell'ex Bertoli Contarena poi anche questo il caso cittadino degli ultimi giorni la Giunta ha deciso anche di costituirsi al Tar poi in Consiglio regionale in aula via libera maggioranza il bilancio consolidato del 2020 buone notizie per quel che riguarda la produzione industriale la manifattura torna ai livelli pre-pandemia e poi ancora andiamo in taglio più basso a Tarcento preoccupazione per il destino del distretto sanitario e anche le decisioni dell'Egip di Udine che ha deciso di applicare la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna offesa ai luoghi da lei frequentati per un cittadino iracheno che aveva molestato verbalmente anche fisicamente perseguitando una collega e alla fine è arrivata la misura decisa dal giudice dopo la denuncia della donna Ponte sul Natisone l'alternativa è più onerosa quindi il collegamento fra il tratto autostradale di Palmanova e l'area della sedia potrebbe portare a una scelta più cara per quel che riguarda le infrastrutture della nostra regione a Paluzza i sindacati dicono in casa di riposo prosegue lo stallo invece in foto di centropagina si parla di Udinese entriamo quindi in tema bianconero gli strascichi della sconfitta di Torino all'Udinese manca sempre la conferma poteva essere la giornata quella di lunedì per confermare la buona prestazione vista nell'ultima gara prima della sosta delle nazioni regionali e invece la striscia positiva si è subito interrotta e dice il gazzettino anche il tecnico Goti torna sul banco degli imputati vediamo la pagina proprio dedicata all'Udinese troppi alti e bassi la squadra è alla sbarra si legge sul gazzettino di quest'oggi contro il Torino servivo a continuità invece la squadra ha sprecato l'occasione il tecnico è di nuovo sotto accusa contro il Genoa è un altro match da dentro o fuori poi si parla anche della panchina Forestieri con la sua punizione brilla nel buio e si candida per un posto da titolare Granata però in volo grazie alla concretezza non è stata una bella partita neanche quella disputata dal Toro i bianconeri pagano però la poca cattiveria il report della Lega Calcio analizza la partita con i dati alla mano Silvestri il nostro portiere è stato praticamente inoperoso quindi era una partita che poteva essere alla portata poi si parla anche di Pordenone si riparte da zero dice Bruno Tedino andiamo a vedere anche le notizie relative la squadra bianconera sulle altre testate spostiamoci sul messaggero con la pagina dedicata allo sport vediamo se riusciamo a reperire la pagina dedicata al messaggero Veneto con l'approfondimento dedicato proprio all'Udinese faccia a faccia tra Gino Pozzo e Gotti tra mosse tattiche e idee di mercato si legge nell'approfondimento con i due volti degli interessati secondo il messaggero ieri dopo l'arrivo del dirigente da Londra l'incontro con al centro la sconfitta col toro delusione per il mancato salto di qualità poi il toro non lascia altre scorie ma Wallace adesso è tra i diffidati Beto si è fermato a Torino sappiamo che aveva messo a segno diversi gol consecutivi quindi Dino Fava l'ex gli dà la spinta può fare molto meglio segnerà già con il Genoa dice l'ex dell'Udinese di Spalletti che è l'ultimo ad aver siglato almeno cinque gol nelle prime tredici giornate il portoghese avrebbe potuto raggiungerlo andiamo adesso sulla gazzetta dello sport per vedere l'apertura di quest'oggi una Juve da quattro si legge il Chelsea infatti rifila il poker a Juve ora adesso è primo il club intanto corre ai ripari 50 milioni per Vlaovic a gennaio poi invece in taglio più alto in Zaghi vede gli ottavi mancano da dieci stagioni San Siro alle 18.45 bisogna superare lo Shakhtar etifare real vieni avanti Inter resta dentro Milan questa sera alle 21 solo vincere per sperare ancora Pioli cerca un miracolo l'Atletico è l'ultima chance intanto dopo lo scontro con Skriniar per Osimè 6 plac 18 viti per l'attaccante del Napoli che rimarrà fuori tre mesi il chirurgo dice danni devastanti poi l'Atalanta si è complicata la vita ieri ha fatto 3-3 con lo Young Boys per passare deve battere il Villareal e vediamo anche la pagina dedicata all'Udinese Forestieri il tabù è cancellato e ora l'Udinese chiede più spazio i friulani non realizzavano su punizione dal 2016 il gol potrebbe dargli più minuti e qui vedete lo scatto proprio della punizione di lunedì sera di Fernando Forestieri che ha accorciato le distanze senza però riuscire a dare la vittoria all'Udinese era subentrato poi nella ripresa il giocatore argentino per adesso due gol in questa serie A in tre gare l'ultimo appunto lo ha segnato al Torino nella sconfitta di lunedì sera 19 le gare invece di serie A dello scorso campionato per Fernando Forestieri che appunto aveva segnato una rete adesso ci fermiamo con questa rassegna vi ricordo che l'informazione ritorna alle ore 12 con il nostro telegiornale in diretta poi alle 15 il nostro appuntamento pomeridiano dedicato proprio all'Udinese all'allenamento della squadra poi ancora l'informazione alle 16 alle 19 e alle 22 e 30 questa sera poi alle 19 e 30 dopo il nostro Tg l'approfondimento quotidiano con le pillole di fair play alle 21 invece basket a nord est con Duce Massimo Campazzo oggi in versione diversa perché di solito va in onda il martedì ieri c'era il tonight quindi appuntamento spostato a questa sera a mercoledì sera basket a nord est con tutto quello che concerne la palla a spicchi e poi invece alle 11 fair play con Francesco Pezzella come sempre l'approfondimento dedicato ai temi di attualità con un'intervista esclusiva al giudice Giancarlo Caselli è tutto per questa edizione grazie per averci seguito una buona giornata in nostra compagnia vi lascio le previsioni del tempo in un ambiente elegante nel cuore di Udine Bortolin Gioielli presenta i più prestigiosi marchi nel mondo dell'orologeria e della gioielleria è un vivace spazio dedicato a Dodo brand giovane e innovativo Bortolin Gioielli si completa con la boutique Montblanc e con lo shopping shop Pandora dedicato al mondo dei gioielli in argento la boutique e lo shopping shop si affacciano su Bialialto e insieme alla nuova gioielleria creano un nucleo brillante in uno dei punti più belli del centro storico di Udine un saluto e ben ritrovati agli amici di Udinese TV da Vanessa Minotti di Trebi Meteo tempo stabile ed assolato per la giornata di mercoledì sul Friuli Venezia Giulia in un contesto climatico però frizzante diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa per la giornata di mercoledì tra Udine e Pordenone non mancheranno spazi soleggiati con cieli in prevalenza sereni o poco velati nuvolosità poi in aumento in serata ma in un contesto in prevalenza asciutto clima freddo al primo mattino con minime prossime allo zero massime che non supereranno gli 11 gradi spostiamo ora la nostra attenzione nel dettaglio tra Trieste e Gorizia come vedete anche qui il contesto sarà stabile ed assolato con il passaggio di qualche annuvolamento specie nella seconda parte del giorno temperature minime intorno ai 3 gradi su Gorizia 7 gradi su Trieste massime che non supereranno i 13 gradi la ventilazione sarà debole a tratti moderata con mare calmo o poco mosso preannuncio però un peggioramento su tutto il Friuli Venezia Giulia per la giornata di giovedì per il passaggio di una nuova perturbazione dettagli in merito scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo grazie a tutti 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 Grazie a tutti.